Benvenuti e benvenute in questo video, carissimi amici e amiche, ragazzi e ragazze che avete cominciato a seguire queste mie lezioni sul web. Oggi vorrei parlarvi del primo canto dell'inferno della Divina Commedia di Dante. Allora, come sappiamo, il termine commedia non è stato dato da Dante stesso all'opera, perché l'opera si chiamava inizialmente commedia. Dante inizia quest'opera nel 1307 e probabilmente la condurrà sino alla fine della sua vita. Allora, quindi Dante riprende dalla cultura del tempo la concezione geocentrica dell'universo, quindi dieci cerchi concentrici e al centro di questi cerchi la terra, sede dell'uomo. Quindi è una concezione geocentrica ma anche antropocentrica, perché al centro di tutto c'è l'uomo. L'uomo al centro della creazione e della storia, l'uomo delle scelte che responsabilmente e liberamente può fare, perché all'uomo è dato il libero arbitrio. Scusate se cambio gli occhiali, mi trovo meglio con questi. E quindi Dante percorre i tre regni dell'oltretomba in un viaggio che dura sette giorni nel 1300, anno del Giubileo. Cosa significa? Giubileo che andando a Roma dal Papa venivano rimessi ai peccatori tutti i loro peccati. La simbologia numerica della Divina Commedia è piuttosto complessa, però al centro c'è il numero tre che è il numero perfetto, perché è il numero della Trinità. Quindi tre cantiche in terzine, di 33 canti ognuna e ognuno dei tre regni è divisibile in dieci parti. Uno dei concetti fondamentali del poema è il mondo come cosmo, quindi il mondo come macchina regolata da un ordine perfetto, che è il segno della presenza di Dio nel mondo. In quanto al genere è un poema didattico allegorico. Possiamo definirlo didattico perché Dante vuole insegnare qualcosa, allegorico perché non è tanto importante il significato letterale, ma quello simbolico, cioè quello dell'insieme che rimanda ad altri significati molto più profondi. Tranquilli che poi metto alla fine del video delle chiamiamole così delle piccole dispense, quindi dei piccoli schemi con la mia calligrafia. L'inferno quindi, come abbiamo detto, è fatto di nove cerchi più l'antinferno. Il purgatorio è fatto da sette cornici più altre tre parti e il paradiso è fatto da nove cieli più l'empireo. Per quanto riguarda il linguaggio della Divina Commedia, sto guardando qui, io ho tantissime edizioni, ma questa che mi piace tanto, poi ne ho anche altre che non ho pensato di... questa si usava anni fa a scuola e ne ho tante altre che non ho pensato di prendere per farvele vedere, ma se vedo che c'è gradimento verso questo tipo di video, posso leggere e commentare i canti più importanti dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Magari non tutti, però alcuni, magari quelli più significativi, ecco. Dicevano che per quanto riguarda la lingua, ora iniziamo subito la lettura, per quanto riguarda la lingua, il fondo lessicale è il fiorentino, il fiorentino ma anche il fiorentino colto, ecco, ma anche possiamo trovare francesismi, latinismi e anche invenzioni ardite, ecco, quindi neologismi per l'epoca, perché tenta anche di coniare dei nuovi termini mescolando la lingua della filosofia addirittura con quella parlata, ma vedremo via via questi termini. Dunque, io ora vorrei leggere e commentare il celeberrimo primo canto, scusate la voce, prima del canto. Parliamo anche un po' della metrica. La metrica è la rima incatenata, detta anche tersina, A, B, A, B, C, B, C, D, C. Quindi sviluppa la rima alternata, facendo in modo che il secondo verso di ogni gruppo di tre rimi col primo del verso successivo. Allora, quindi possiamo chiamarli terzine di endecasillabi a rima incatenata, A, B, A, B, C, B, C, D, C. Allora, sono un po' emozionata nell'inizio, che poi conosco a memoria, quindi nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Cosa significa? Che all'età di 35 anni, Dante, quindi nel mezzo del cammino della sua vita, partiamo dal significato letterale, all'età di 35 anni, si trova in un bosco oscuro, perché aveva perso la via maestra. La selva oscura rappresenta il peccato, quindi lui ha perso a quell'età, a 35 anni, la via che conduce al bene. Hai quanto a dire qual'era e cosa dura, è sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Quindi dire dettagliatamente cos'era questa selva è difficile, perché era una selva intricata, una selva intricata e aspra e selvaggia, tanto che soltanto a pensarci la paura si rinnova nel suo animo. Tant'è amara che poco più è morte, ma per parlare del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Ecco, è così amara, è così dolorosa da attraversare, che la morte lo è poco poco più, ma per parlare anche di qualcosa di positivo che lui vi ha trovato, racconterà altre cose che lui ha visto. Non so ben ridir come i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Lui non sa ben dire come vi è entrato nella selva che rappresenta il peccato, perché quando ci avviamo per strade, diciamo, moralmente non troppo accettabili, non sappiamo neanche noi come ci ritroviamo in quelle strade. Tanto lui dice, ero in quel punto intorbitito dal sonno, dal sonno dell'anima, nel momento in cui ha abbandonato la verace via, cioè la via che conduce al bene. Girato due pagine insieme. Ma poi chi fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che mavea di paura il corco un punto. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Quindi adesso Dante, uscito dalla selva, vede un monte, un colle, le cui pendici sono illuminate dai raggi del sole, che rappresentano la grazia di Dio. Quindi questo elemento positivo all'uscita dal peccato, perché quando si sta per uscire da una situazione incresciosa che ci ha condotto a fare azioni riprovevoli, c'è la possibilità di prendere la retta via, la capiamo, e lui lo capisce vedendo questo monte illuminato per l'appunto dal sole. Ma dopo che fui arrivato ai piedi d'un colle, dove terminava quindi la valle che mi aveva afflitto il cuore di paura, guardai in alto e vidi le sue pendici, le pendici del colle, inondate dai raggi del pianeta, cioè dal sole, che conduce gli uomini dirittamente per ogni via, per la via che conduce al bene. Allora fu la paura un poco quieta che nel lago del cuore mi era durata la notte che passai con tanta pieta. Allora si calmò la paura che mi era durata nel lago del cuore, cioè nel profondo del cuore, durante la notte che avevo passato con tanta angoscia. E ora c'è una similitudine bellissima, la similitudine introdotta da come, così, qui di primo e secondo termine di paragone, è come quei che con l'ena affannata, uscito fuori del pelago, alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancora fuggiva si volse al retro a rimirarlo passo che non lasciò già mai personalità. È come un naufrago che scampato dal mare e giunto a riva con respiro affannoso, si volge verso l'acqua insidiosa, perché perigliosa vuol dire insidiosa, pericolosa, e la scruta, la guata, la scruta. Così il mio animo che ancora fuggiva si rivolse indietro a osservare il passaggio, cioè la selva, il peccato che non lasciò già mai sopravvivere nessuno. Poiché è posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piede fermo era il più basso. Quando ebbe riposato un poco il corpo stanco, allora ripresi a camminare per la spiaggia deserta, sicché il piede che stava fermo era sempre quello più basso. Quindi cosa vuol dire? Che stava salendo. Sì, quindi piaggia, scusate, non è spiaggia, ma pendio. A volte sbagliamo anche noi. Quindi per il pendio, infatti, mi sembrava per il pendio, quindi ripeto, dopo che ebbe riposato un po' col corpo stanco, ripresi a camminare per il pendio deserto, perché le piagge sono anche pendii in lingua toscana. Quindi ripresi a camminare per il pendio deserto in modo che il piede d'appoggio era quello più basso, quindi stava salendo. Ed ecco quasi a cominciare dell'erta una lonza leggera e presta molto, che di pelma colato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino, che io fui per ritornare più volte volto. Ed ecco al cominciare della salita, l'erta e la salita, una lonza leggera. La lonza è un animale che adesso non c'è più, è un animale che adesso si è estinto e praticamente possiamo raffigurarlo come l'attuale ghepardo. Ecco, quindi una lonza leggera e veloce, presta vuol dire veloce, che era coperta di pelo chiazzato e non andava via dal mio volto, anzi mi impediva tanto di camminare, impediva tanto il mio cammino, che io fui tentato più volte di tornare indietro. Quindi vedendo questo animale e quindi questo ghepardo, Dante pensava di tornare indietro. Tempera dal principio del mattino, adesso arriviamo in uno dei passi più difficili. L'inferno è la cantica meno difficile fra le tre, quella più amata dagli studenti e quella più famosa. Però ci sono dei pezzi, ci sono dei versi che danno adito a diverse interpretazioni, o sono particolarmente complicati. Fino adesso tutto liscio, di solito, i ragazzi questa parte qua, ma che bello, che bello, che bello. Poi arrivano in questo pezzo qua che è un po' complesso, perché c'è di mezzo anche un po' d'astrologia. Quindi, tempera dal principio del mattino e il sol montavano su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché, a ben sperar, mera cagione, di quella fiera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che mi apparve di un leone. Quindi l'ora, il tempo, era all'inizio del mattino e il sole sorgeva con quella costellazione, con quelle stelle, con la costellazione dell'Ariete, che lo accompagnava quando Dio, con un atto d'amore, creò il mondo. Quindi il sole montavano con quelle stelle che erano con lui quando l'amore divino, cioè Dio, mosse prima le cose belle, cioè le stelle. Quindi diede il movimento ai cieli e agli astri creando il mondo. Cosicché, l'ora del giorno, quindi i soggetti qui sono l'ora del tempo, cioè l'ora del giorno, e la dolce stagione, la primavera, mi facevano sperare bene riguardo alla fiera dalla pelle gaetta. Gaetta vuol dire screziata, maculata, chiazzata, come volete. Quindi l'ora era nel mattino, poi si era nella costellazione dell'Ariete, si era in primavera, quindi il suo animo era abbastanza, nonostante la fiera gli facesse un po' di paura, però era abbastanza tranquillo. Ma non sì, ma non tanto che paura non mi desse, ma non sì che paura non mi desse, ma non tanto che non mi desse paura la vista che mi apparve di un leone. Quindi prima la lonza, poi il leone. Questi tre animali che gli sbarrano la strada alla grazia divina, alla salita del monte, rappresentano tre peccati capitali. La lonza, la lussuria, il leone, la superbia, la lupa, come vedremo, l'avarizia o avidità, che è uno dei vizi, che forse è il vizio capitale per Dante più grave in assoluto che quello che affliggeva la Firenze del suo tempo. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca della sua magrezza, e molte genti feggia piper grame, questa mi porse tanto di gravezza, con la paura cuscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. Questi, cioè il leone, sembrava che venisse contro di me, con la testa alta e con fame piena di rabbia, cosicché sembrava addirittura che l'aria tremasse alla sua presenza. E una lupa, che di tutte le voglie sembrava carica nella sua magrezza, e molte genti fece già vivere miseramente, questa mi porse tanta gravezza, mi porse tanta sofferenza, con la paura che mi provocava la sua vista, che io ho persi la speranza di salire ancora. E qual è quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e sa trista, tal mi fece la bestia senza pace, che, venendomi incontro a poco a poco, mi ripingeva là dove il sol tace. E come colui che abitamente acquista dei beni materiali e poi arriva il momento che gli fa perdere, che gli fa perdere ciò che è accumulato, sottointeso, per cui piange e si rattrista in tutti i suoi pensieri, tale mi rese la bestia, mi rese la bestia insaziabile, senza pace, questa lupa che non si saziava mai, insaziabile, che, venendomi incontro, mi spingeva di nuovo là dove il sole non arriva, cioè della selva buia e oscura, dove il sole non arriva. Mentre chi rovinava in basso l'uoco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sii, o d'ombra o d'uomo certo. Risposemi, non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furon lombardi. Mantuani per patria, ambedue, qui c'è la diere sì, la diere sì si usa, cioè i due puntini sulla i si usa, quando c'è bisogno di allungare la sillaba in modo tale che le sillabe siano quelle richieste dal tipo diverso. Questi sono i decasillabi, quindi la i lunga, pronunciata con suono lungo, serve proprio a creare due sillabe invece che una, in modo tale che risultino undici. Quindi, mantuani per patria, ambedue, nacqui subiulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono gusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuolo d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Allora, mentre io precipitavo verso il basso, davanti agli occhi mi si offrì chi, per essere stato a lungo in silenzio, separava senza voce. Quindi, come vedremo, Virgilio rappresenta la ragione, e la ragione a lungo purtroppo è stata in silenzio, al tempo, a quei tempi. Quando vidi costui in questo grande deserto, dissi, abbi pita di me, chiunque tu sia, o uomo in carne e ossa, oppure spirito. Mi rispose, non sono più un uomo in carne e ossa, però uomo sono già stato. E i miei genitori, vedete questo parenti è un latinismo, perché parents, parentis vuol dire genitore in latino, quindi i miei genitori furono lombardi, tutti e due per patria, mantovani. Quindi nacqui al tempo di Giulio Cesare, subiulio, nacqui al tempo di Giulio Cesare, benché fosse tardi per poterlo conoscere, quindi non lo conobbe personalmente, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, quindi Ottaviano Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Fui poeta e cantai del figlio di Anchise, cioè di Enea, che venne, arrivò da Troia dopo che la superba città si bruciata, nella famosa guerra di Troia, no? Quindi l'assedio è durato dieci anni fra i greci e i troiani. E i greci vinsero. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali, un attimo che non vorrei aver perso, sì, perché non sali del dilettoso monte che principio e cagione di tutta gioia? Oh, sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume? Risposi io lui con vergognosa fronte. Oh, degli altri poeti, onore e lume. Bagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. Dice, ma tu perché torni indietro verso tanto tormento? Perché non sali il monte pieno di felicità, dice Virgilio, che principio e causa di gioia perfetta? Ah, dice Dante, sei tu allora quel Virgilio e quella fonte, quella sorgente che spande un fiume così grande di poesia? Gli risposi con la fronte china per la vergogna? Perché Dante ha soggezione di Virgilio, di questo grandissimo poeta latino. Tu che sei onore e modello degli altri poeti, mi sia merito presso di te il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare la tua opera, volume per opera, che mi ha fatto cercare la tua opera. Perché Dante quindi aveva letto le opere di Virgilio. Tu sei il mio maestro e sei la mia la mia massima autorità, cioè il mio autore nel senso che sei per me la massima autorità poetica. Tu soltanto sei colui, sei l'unico da cui ho tratto lo stile tragico e di cui mi onoro. Vedi la bestia a causa della quale mi sono voltato indietro. Aiutami, aiutami da lei, aiutami da lei, ho famoso saggio, perché lei mi fa tremare le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, di nuovo la di Eresi, eh? Dai con i due puntini. Rispose, poiché lacrimar mi vide. Se vuoi campare, desto loco selvaggio. Che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. E ha natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia. E dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui si ammoglia e poi saranno ancora, infinché il veltro verrà, che la farà morire con doglia. Questi non ci verrà terra né peltro, ma sapienza di nuovo la di Eresi, amore e virtute e sua nazione sarà tra feltro e feltro. A te conviene tenere un altro cammino, gli dice Virgilio, dopo che mi vide lacrimare. Se vuoi uscire vivo da questo luogo selvaggio, perché questa bestia, a causa della quale tu stai gridando, non lascia passare nessuno per la sua strada, ma tanto l'ostacola, lo impedisce l'ostacola, da ucciderlo. Ed è di natura così malvagia e perfida, a natura sì malvagia e ria, così malvagia e cattiva e perfida, che non riempie mai la sua bramosa voglia, che non giunge mai a sazietà a saziarsi. Ecco, non sazia mai la sua voglia, la sua abilità e dopo il pasto ha più fame di prima. Molti sono gli animali ai quali si accoppia e ancora di più lo saranno finché arriverà il veltro, il veltro era un cane da caccia, che la farà morire dolorosamente. Ora, per veltro, quindi questo è il significato letterale, il significato metaforico allegorico, invece sarà un papa, un imperatore, che farà in modo di porre un freno all'avidità eccessiva eccessiva dei cittadini di Firenze. Va bene. Allora, questi non si ciberà né di terra né di moneta. Il peltro era la lega di metallo con cui si facevano le monete anche. Costui non si ciberà né di terra né di moneta. Quindi non sarà abito di dominio né di ricchezza, ma si ciberà di sapienza, di amore e virtù. E la sua nascita, nazion nel senso di nascita, sarà tra gente umile, perché il feltro era un panno umile, era un panno umile, quindi un panno di scarso valore. Di quella umile Italia, fia salute, per cui morì la vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'unferno la onde invidia prima di partirla. On Dio per lo tuo me, penso e discerno, che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida. E vedrai color che sono contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti. Alle guai, poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che la surregna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. Allora, egli, quindi quest'uomo, sarà la salvezza di quella misera Italia, per la quale morirono per le ferite la vergine Camilla, Eurialo e Niso, che sono eroi delle neide di Virgilio. Questi, cioè egli, quindi un papa, un imperatore, la caccerà, gli darà la caccia, l'avidità per ogni città, finché non l'avrà ricacciata nell'inferno, là da dove la mandò per il mondo l'invidia di Lucifero. Così io, per il tuo bene, per il tuo me, per il tuo bene, penso e ritengo opportuno che tu mi segua, e io sarò la tua guida, e ti porterò via di qui, attraverso un luogo eterno, dove udirai le disperate grida, vedrai gli spiriti morti da tempo, antichi gli spiriti morti da tempo, dolenti, pieni di sofferenza, ciascuno dei quali lamenta, gridando la propria dannazione, quindi lamenta la seconda morte che è la dannazione, quindi prima la morte del corpo, l'hanno già attraversata, adesso la morte dell'anima, la dannazione. E vedrai coloro che sono contenti, coloro che stanno nel purgatorio e sono contenti, stanno nel fuoco, in purgatorio, anche loro nel fuoco, perché c'è una parte del purgatorio dove c'erano anche lì le anime nel fuoco, vedrai coloro che sono contenti nel fuoco, che stanno nel purgatorio e sono contenti perché sperano di andare prima o poi tra le genti beate, tra le anime beate, sperano di salire in paradiso, perché dal purgatorio, scontata la pena, poi andavano in paradiso, tra le anime beate, alle quali poi, se anche tu vorrai salire, se anche tu vorrai andare poi a trovare le anime del paradiso, ci sarà una guida più degna di me, con lei ti lascerò quando andrò via, quando andrò via, perché l'imperatore che regna lassù, cioè Dio, poiché io fui ribelle alla sua legge, ribelle qui fino a un certo punto, perché Virgilio era nato ed era vissuto prima della venuta di Gesù Cristo, in questo senso, infatti lui sta nel limbo, sono le anime dei non battezzati, quindi, poiché è quell'imperatore che la sorregna, cioè Dio, per il fatto che io sono stato ribelle alla sua legge, io non seguì la sua legge, ecco non la poteva seguire assolutamente, no? Per il fatto che io non seguì la sua legge, non vuole che io entri nella sua città, cioè nel paradiso, in tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, ho felice colui cui vi elegge, e io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che ho fuga questo male peggio, che tu mi meni la dovor dicesti, si chioveggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti, all'or si mosse, e io li temi dietro. In tutte le parti governa e qui regna, quindi governa dappertutto però regna nel paradiso, questa è la sua città e questo è il suo trono, ho felice, felice colui che egli vi destina, cioè colui che è destinato a stare anche lui in paradiso, proprio si sente il desiderio di Virgilio di poter accedere al paradiso, desiderio che rimarrà insoddisfatto, incompiuto. E io a lui, poeta, io ti richiedo il nome di quel Dio che non hai potuto conoscere, affinché io fuga questo male da cui sono afflitto e la dannazione, ti prego che tu mi meni, che tu mi conduca, il verbo menare vuol dire condurre, in linguaggio medievale, che tu mi conduca là dove hai appena detto, cosicché io veda la porta di San Pietro, cioè la porta del Purgatorio, è coloro cui tu fai, cotanto mesti, è coloro che tu raffiguri come anime tanto tristi. Allora si mosse Virgilio e io gli andai dietro. Allora, il canto è finito, spero abbiate gradito. Questi minuti, tutti questi minuti sono 27 minuti, grazie a tutti coloro che sono arrivati alla fine di questo video. Questo canale era nato con altri intenti, cioè nell'intento di raccontare la mia vita quotidiana, però anche queste lezioni fanno parte della mia vita quotidiana. Un bacio a tutti e grazie.